Il professore di filosofia di Trilussa Lo chiamava Enoermatto, poveraccio. Invece era un filosofo, purtroppo, pallido, allampanato, mezzo zoppo, con un fascio di libri sotto al braccio pareva che covasse gli misteri dietro al vetro degli occhiali neri. A mezzogiorno lo vedevo spesso che entrava all'osteria della speranza, peccoglione allo stomaco e la panza, con un po' de minestra e un po' d'allesso. E il professore, fra i tanti guai, magnava poco e chiacchierava assai. Sapeva da discute di una cosa, pesava le parole e piano, piano, si grattava la barba con la mano, con una mossa seria e pensierosa, come se ricercasse in mezzo al pelo l'idea che gli venivano dal cielo. E che discorsi, roba mai sentita. Dice, la onda e la ragione pura dimostra come in tutta la natura esiste un'armonia prestabilita e il sole è tondo, ma se fosse ovale, sa chi amerebbe sole tale quale. Benché nessuno ci capisse in figo, tutti quanti gli davano ragione. E quando l'oste, che era un vassallone, la provava in un modo che non dico, il professore si copriva l'occhi, pa' aspettare la fine degli scrocchi. Allora si arrabbiava e qualche volta faceva un gesto tanto esagerato che il vecchio manichetto innamitato sortiva dalla manica un po' corta, si scartocciava, gli esompava via e ruzzicava in mezzo all'osteria. Per me, ne disse un giorno, non c'è niente. Io non credo né all'ommini né a Dio. Alle donne, però, gli chiesi io, dico, ci rivederà sicuramente. Come? Ne manca a quelle. Abbia pazienza, ma così si avverena l'esistenza. Chi vive senza fede e senza amore non può sentirsi l'anima tranquilla. La fede è l'accelino che scintilla sulle speranze che ci avevamo ancora. E la prima speranza è sempre quella di essere capito da una donna bella. Lei ci ha ora avuto una persona cara, forse un'amica. Lui mi disse un nome, però lo disse a mezza bocca, come se masticasse una parola amara. Poi si aggiustò l'occhiali, ma non tanto, da non far vedere il luccicchio del pianto. E un po' scocciato, per averlo detto, tossì, sputò, si soffiò il naso e rise. Se leccò un detto e subito si è mise a sfogliare le facciate di un libretto. Sfoglia che ta' risfoglia, scappò fuori una fotografia di una signora. Eccola, disse. Forse lei si immagina che io sia talmente stupido e balordo da tenerla qui dentro per ricordo. No, no, mi serve per segnare la pagina. Io non risposi e dissi in mente mia, che fregatura la filosofia.